No, non sono riuscito ancora a convincerlo, ma Mark e il Premier Rutte ha fatto un passo fondamentale perché mi ha assicurato che non c'è nessuna, come dire, nessuna prevenzione di principio sull'idea di mettere un tetto al prezzo del gas e si è detto disponibile ad esaminare tutte le ragioni a favore e avere una discussione aperta sulla questione. Che è sicuramente più di quanto avesse fatto finora.